un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte oggi volevo farvi vedere il contenuto di questa meravigliosa scatola che mi è arrivata proprio stamattina e allora come vedete finché c'è la salute come vedete c'è scritto planner society allora che cos'è planner society planner society è stato fondato da una donna americana di grande talento per me che realizza dei kit per decorare le agende ok e questi kit possono essere acquistati sottoscrivendo un abbonamento minimo di tre mesi quindi io per esempio ho iniziato la sottoscrizione ad ottobre proprio adesso i primi di ottobre e quindi riceverò il kit di ottobre il kit di novembre il kit di dicembre dopodiché posso decidere se annullare la mia iscrizione oppure continuare ho pagato tramite paypal e quindi ogni mese mi verranno scalati i soldi di questo kit il prezzo del kit mensile è di 35 euro compreso delle spedizioni tramite posta tracciata e quindi praticamente voi potete fare l'iscrizione io comunque vi lascio ovviamente il link di questo sito giù nell'info box potete fare l'iscrizione nei primi 15 giorni del mese dopodiché poi verrà spediti questi kit e vi arriveranno verso fine mese bene io spero di essere stata il più chiara possibile e niente volevo far vedere il contenuto sì però la cosa fondamentale da dire è che questo kit non è quello di ottobre ovviamente non c'è neanche è partito deve comunque arriva lo devo aspettare per fine mese questo è un kit che mi è arrivato perché l'avevo prenotato insomma comprato un po di tempo fa ed è il kit relativo alle decorazioni per halloween quindi ci sono proprio delle decorazioni in tema di halloween e non sono tantissime rispetto invece a quelle presenti nei kit mensili che sono veramente straordinarie ragazze non vedo l'ora di farvele vedere poi in futuro e lei comunque come potete intuire ha tutto uno stile floreale molto 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 bello è tutto realizzato ovviamente da lei ovviamente tramite anche l'aiuto di aziende fabbriche insomma qualche cosa perché realizza washi tape penne tutto in coordinato ok ok io non voglio dilungarmi troppo io ovviamente già l'ho aperto perché non potevo non aprirlo guardate che carina anche hello planner society girl e allora questo è il contenuto dunque è tutto comunque confezionato bene molto bene nei minimi dettagli direi e allora che cosa ha messo in questo kit allora ha messo cominciamo subito con questo washi tape ma guardate che carino perché ovviamente il tema è di halloween sì però manteniamo sempre cioè mantiene sempre il suo stile floreale molto bello adesso io senza fare troppi danni vi volevo fare uno zoom per farvelo vedere quindi è veramente carino a questo sfondo comunque rosa lilla che è delizioso delizioso poi a questo punto io lascio lo zoom e vi faccio vedere questo sacchettino in cui sono contenuti tre fogli di stickers fatti sempre appunto da lei quindi troviamo queste scritte qui tutti questi adesivi da queste bandierine ma guardate che carini ma sono un amore perché insomma a uno stile veramente bello a me piace moltissimo guardate che carino guardate la bambolina un amore un amore ecco questi sono ovviamente i miei preferiti cioè io non vedo l'ora di decorare e sicuramente vi farò vedere un video in cui decoro la settimana di halloween con queste con queste meraviglie e poi abbiamo questo blocchettino oddio post it però c'ha un altro nome più più giusto ma vabbè con sempre la bambolina e il ragno ed è delizioso cioè c'è poco da dire comunque i foglicini sono eh quindi insomma hai voglia di molto 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 carino e infine perché ripeto questo era un kit comunque solo opla questo era un kit un kit solo di di halloween e insomma costituito da poche cose e abbiamo questi questi fogli qui di carta scrap e fatti in questa maniera molto 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 belli anche questi sono due fatti così e dietro abbiamo qui le ragnatele poi mi sembra che qui sempre no si sempre le ragnatele no dice giustamente perché no perché 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 questi sono due che però cambiano il dietro no benedetta tu prima hai sognato ok no ragazzi prima l'ho sbirciato ma ho sbirciato male vabbè quindi abbiamo quindi due fogli per ciascuna fantasia questa così e dietro queste zucche meravigliose e poi questo motivo così e dietro queste streghette delizioso proprio delizioso a me piace tantissimo io non vedo l'ora che arrivi il kit di ottobre perché ho fatto la sottostruzione a partire da ottobre e mi è stata data la possibilità anche di acquistare dei kit di settembre che erano rimasti quindi io me ne sono accaparrata subito perché veramente sono bellissimi quelli di se c'è bellissimo il kit di settembre quindi non vedo l'ora di farvelo vedere e niente ragazzi io mi sono rilongata anche troppo e niente però mi faceva piacere farvi vedere queste cosine e il prezzo sinceramente non me lo ricordo ma tanto vi lascio il link del sito del planner society giù nell'info box e niente io vi ringrazio per aver visto questo video se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte